ragazzi buongiorno buongiorno a tutti come vi avevo promesso vi do anche il buongiorno alla mattina ci prendiamo questo caffè virtuale insieme per parlare molto rapidamente di milan molto velocemente insomma una chiacchierata di quelle mattutine che si fa anche al bar quando si prende il caffè ecco stessa cosa la mia idea era esattamente quella farvi compagnia anche la mattina in questo senso come sempre mi raccomando anche se prima mattina pollicione in su la prima cosa da fare iscrizione al canale l'altra cosa da fare commenti anche se appena svegli è la terza cosa da fare e la campanella attivata bene vi parlo molto rapidamente di due o tre cosine che mi interessava condividere con voi innanzitutto il discorso echitiche echitiche è un giocatore che interessa molto al mila però attenzione attenzione perché stanno cambiando un po gli scenari stanno cambiando un po gli scenari perché ci sarebbe alcune squadre di bundesliga interessate al giocatore e nello special modo ci sarebbe l'entracht frankfurt che sta facendo pressione per avere echitiche avrebbe già fatto un'offerta formale al psg che in questo caso sta prendendo tempo un attimino perché sta valutando ovviamente le opzioni migliori a livello economico e per il ragazzo onestamente echitiche secondo me è un colpo in cui moncada crede è un giocatore che segue da anni e se moncada dice che è buono secondo me ce la credegli credo che echitiche possa fare molto bene anche nel campionato italiano certo chiaro è molto giovane non ha mai giocato in italia però tutto può succedere e tutto può cambiare discorso diverso invece per taremi ha parlato una giornalista una calciatori iraniani ha detto che taremi vuole lasciare il porto taremi è disponibile a lasciare il porto gli piacerebbe molto venire in italia dice che è un giocatore molto forte che nel milan non sarebbe solo un vice girù ma sarebbe il futuro al posto di girù futuro non so per quanti anni sinceramente visto che taremi comunque ha più di 30 anni ha già 30 anni eccetera eccetera però comunque dice che forse addirittura sarebbe meglio come vice zecco all'inter dice dice la giornalista un taremi però la cosa è sicura ha detto che nella prima partita ha fatto poco niente non ha segnato nella seconda è stato sostituito sostituito nel nel secondo tempo all'inizio del secondo tempo insomma sintomo che non vuole più restare lì ha voglia di cambiare aria ha voglia di provare esperienze diverse e chissà chissà il mercato non è lunghissimo mancano dieci giorni otto giorni quelli che sono non ho fatto il conto sei giorni non mi ricordo a prima mattina poi mi ricordo ancora meno ma l'importante è che taremi vuole andare via quindi porta aperta ma il problema qual è il problema è che il porto vuole troppi soldi il problema per un tre il problema è che per taremi il porto vuole più di 20 milioni il milan non li spenderà mai più di 20 milioni per un giocatore di 30 anni che comunque si è bravo ma ha un prezzo troppo alto soprattutto in virtù del fatto che la scadenza del contratto è nel 2024 quindi non ha senso spendere tutti quei soldi per taremi almeno questo è quello che pensa la dirigenza del milan passando invece al discorso un altro discorso che ci interessa direttamente che è quello relativo ad adli attenzione perché arrivano le conferme arrivano le conferme di una dirige a questo punto non parte più e veramente potrebbe rimanere in rosso nero io sono stracontento qualcuno lo bolla continua a bollarlo con un bidone io dico che non si può bollare con un bidone un giocatore che praticamente non ha mai giocato non si è mai visto giocare una partita intera due tre partite di fila quindi non si può bollare con un bidone bisogna secondo me dargli spazio e addirittura potrebbe rimanere questo fa un po fa un po diciamo venire la pelle d'oca come vice crunic come vice crunic il problema è che adli ha un grosso il problema è che adli ha un grosso problema nella fase difensiva deve molto migliorarla perché non è molto diciamo capace a fare la fase difensiva grande impostatore ha un bel piedino è molto bravo da quel punto di vista ma in fase difensiva no non ci siamo ad lavorare ancora molto forse anche per questo pioli vuole valutarlo ancora e magari sta lavorando sta lavorando proprio su quello e a proposito per chiudere la mattinata in bellezza a proposito di crunic ragazzi attenzione perché il fenerbace alza ancora di più la posta il fenerbace alza ancora di più la posta e arriva ad offrire 10 più 3 di bonus quindi attenzione perché ci siamo praticamente avvicinati a quello che chiede il milan perché il milan vuole esattamente 13 milioni minimo per far partire crunic e loro lo fanno il fenerbace si è avvicinato 10 più 3 di bonus chiaro che adesso magari il milan potrebbe rilanciare dicendo no ne voglio 13 secchi senza i bonus però 10 più 3 di bonus soprattutto se sono facilmente raggiungibile amici miei capite che tutto può succedere si può anche fare secondo me poi la palla aspetterà non tanto pioli ma crunic perché se il milan viene vengono soddisfatte le aspettative e crunic continua insistere come sta facendo che vuole andare al fenerbace beh a quel punto amici miei non c'è pioli che tenga a quel punto non c'è nessuna soluzione relativa alla permanenza di crunic e dovrebbe partire che fare senza crunic tanti mi dicono cosa facciamo se parte crunic ragazzi se parte crunic comunque abbiamo giocatori ce li abbiamo possiamo mettere anche renders centrale poi a gennaio comunque rientra benasser insomma per 3-4 mesi possiamo arrangiarci è vero che benasser poi ha bisogno un attimo di un periodo di assestamento di entrare in forma ritmo partita passerà un altro mesetto secondo me benasser se sarà abile ruolato per i primi di gennaio vuol dire che in forma arriverà per febbraio i primi di febbraio niente niente male comunque va benissimo nel senso che comunque per l'aprivo febbraio è una benasserà fino ad allora abbiamo tanti di quei centrocampisti anche adattabili in quel ruolo che secondo me possiamo tranquillamente sopperire alla mancanza di crunic non perché voglio farlo partire domani semplicemente perché non è la perdita di un pezzo pregiato così importante che ti cambia tutti tutti i piani chiaro è che in questo momento ne sono stracconvinto la priorità rimane la famosa punta e io continuo a dire il nome jovic continuo a dirlo perché le cose da quel punto di vista stanno diventando interessanti molti di voi non lo vogliono oggi su ieri sul canale telegram fatto ragionare un po' di persone che comunque sono convinte che se fosse proprio l'ultima spiaggia all'estremo e arrivasse jovic praticamente o a zero o a due milioni e mezzo quello che è comunque sarebbe un affare comunque vada e poi l'anno prossimo si farà il colpo importante intanto ragazzi vi auguro buon proseguimento di giornata buona mattinata buon caffè buona sveglia ci sentiamo ovviamente in pausa pranzo sempre comunque ovunque forza milan e adio